Passiamo dunque all'articolo 8. Videtur sembra che questa dottrina, stiamo valutando la teologia, non proceda con metodo dialettico. Sostanzialmente con metodo. Quel metodo che ho sempre invocato io, che è il metodo della riflessione. Vediamo un po' chi potrebbe sostenere questa possibilità. E qui abbiamo, come vedete, due argomenti, uno e due. Infatti, dice Sant'Ambrogio, notate una cosa che non ho mai fatto osservare. Io ho riportato i luoghi da cui vengono tratti i passi della Bibbia. Anche i passi di Ambrogio, di Agostino, di Boezio, di Gregorio, sono tutti ben definiti. Però, se ci mettiamo anche ad affrontare quelle opere, non finiamo più. Per cui diamo per buono queste citazioni. Ambrogio, voi sapete che è il Vescovo di Milano, no? Ambrogio, togliete via gli argomenti dove si richiede la fede. Sembra qui che Sant'Ambrogio confermi questo pensiero. Basta la dialettica, basta chiacchiere, bisogna credere. E San Giovanni, Giovanni l'Evangelista, in 2031, del suo Vangelo, scrive queste cose sono state scritte perché voi crediate. Quindi, il primo argomento sembra confermare il fatto che, insomma, la dottrina, questa dottrina, non dovrebbe procedere con un metodo dialettico. Secondo argomento. Se fosse dialettica, stiamo ragionando per assurdo, no? Dovrebbe argomentare. La dialettica argomenta. Sostanzialmente è il metodo che ha adottato Tommaso qui. Qui sta argomentando. Ma le argomentazioni possono procedere per due vie. O per autorità, o per ragione. Boezio, Severino Boezio, che era stato legato particolarmente a Teodorico che poi venne fatto fuori dallo stesso Teodorico, critica l'argomentazione per autorità. Tu devi fare così perché io sono tuo superiore e basta discussioni. O mangi la minestra, o salti dalla finestra. Boezio critica l'argomento di autorità che è il più debole di tutti. Perché? Perché non è giustificato. Argomentare per ragione, d'altra parte, sembra disdicevole al suo fine. E questo è il pensiero di Gregorio. La fede, dice Gregorio, cessa di essere meritoria. Ove la ragione umana porta all'evidenza. Se la ragione ci dimostra che la fede in una particolare verità è evidente e non può assolutamente essere optata l'azione alternativa, è che meritò. Facciamo sempre l'esempio più semplice, che è quello che ci aiuta nelle scienze primarie con la matematica. Due più due fa quattro, che merito ho? Di credere che due più due fa quattro. Poi avrò il merito di conoscere la matematica, no? Però non ho nessun merito. Due più due fa quattro, è lì, è evidente. Allora, questi sono i due argomenti contro l'uso della dialettica in riferimento a questa disciplina sacra che è la teologia. Sed contra ma. Paolo in Tito 1.9 si rivolge al vescovo. Un vescovo dice quelli devono essere i compiti e i doveri di un vescovo, di un pastore che guida una comunità. attaccato alla parola di fede conforme all'insegnamento avuto affinché sia in grado anche di esortare nella sana dottrina e di confutare quelli che la contraddicono. Allora dobbiamo usare l'argomentazione. Se devo dare delle ragioni per esortare verso la sana dottrina e confutare i criticoni devo procedere in modo dialettico. Allora, chi ha ragione? è evidente che Tommaso opta per la seconda soluzione. Come le scienze profane non devono dimostrare i propri principi noi sappiamo che fisica, matematica, geometria quante volte l'ho detto si fondono su assiomi, su principi indimostrabili ma che si colgono intuitivamente ma dai loro principi argomentano per dimostrare altre tesi rifacciamoci sempre alla geometria abbiamo delle definizioni abbiamo degli assiomi, dei postulati da questi assiomi, dei postulati che ha fatto un po' di geometria anche solo al liceo poi provengono attraverso ulteriori riflessioni i teoremi, i corollari abbiamo già detto che per quella strada ebbe a passare anche Spinoza che volle costruire l'etica alla maniera della matematica e della geometria quindi è vero che i principi sono immediati sono indimostrabili si colgono intuitivamente ma poi tutte le scienze procedono in modo dialettico così la sacra dottrina non dimostrerà i propri principi la rivelazione è quella che è che sono gli articoli di fede ma da essi procede alla dimostrazione di qualche altra cosa come fa l'apostolo il quale dalla risurrezione di Cristo prova la risurrezione di tutti ma poi la dialettica è una parte integrante importantissima della teologia perché attraverso la dialettica il teologo può riflettere e discutere su chi su quei principi che vengono negati oppure i principi della rivelazione che vengono negati dai detrattori e quindi attraverso la dialettica ribatte i sofismi oppure se l'avversario ammette qualche verità della rivelazione ma ne nega altre attraverso questa verità quelle verità che l'avversario accetta cercherà di dimostrare la veridicità anche delle altre verità vedete per mezzo di un articolo ammesso combattiamo contro chi nega qualche altro se poi l'avversario non crede niente di ciò che è rivelato da Dio allora la scienza sacra non ha più modo di portare argomenti ma è interessante anche questa cosa qui le prove che si portano contro la fede non sono delle vele dimostrazioni ma degli argomenti solubili perciò anche di fronte all'ateo oggi non direi l'ateo ma è laicista che critica e oggi poi la critica non ha nessun fondamento è qualcosa che salta da un argomento all'altro che gioca sulle parole isolate che non sa contestualizzare né da un punto di vista testuale né da un punto di vista storico ebbene anche in questo caso la dialettica e la riflessione possono essere utili dunque rispondiamo alle due prime argomentazioni muovendo degli articoli di fede la sacra dottina può provare altre cose come abbiamo già detto non deve dimostrare gli articoli di fede andiamo a vedere la prima argomentazione qual era togliete via gli argomenti dove richiede la fede noi non stiamo togliendo la fede sulle verità rivelate è evidente che è necessaria la fede ma noi utilizziamo la dialettica per andare oltre per andare a trovare ulteriori verità dove la fede non le esplicita in modo corretto 2 più 2 fa 4 nel 2 non c'è il 4 nell'altro 2 non c'è il 4 però riusciamo attraverso delle riflessioni arrivare anche a calcoli complessi che si fondono sempre su quei principi che si colgono in modo immediato così per il rapporto rivelazione e teologia sebbene l'argomento di autorità umana sia il più debole di tutti l'argomento di autorità fondata sulla rivelazione divina è il più forte abbiamo detto che l'autorità espressa l'abbiamo visto con Severino Boezio l'argomento per autorità ha poco valore ma quando ci troviamo di fronte a un uomo che impone agli altri con autorità il proprio pensiero le proprie decisioni ma nel momento stesso in cui è Dio è chiaro che partiamo sempre di lì e se non c'è la fede e se non si crede che quella sia parola di Dio è evidente che tutto quello che si può dire su quelle verità rivelate non ha più senso ma se uno crede che quella sia parola di Dio dunque quella non è più un'autorità la più debole di tutti ma anzi è una verità la più forte perché proviene dalla onniscienza divina e questa rivelazione non distrugge la natura tante volte ho fatto riferimento a questo passo grazie a natura non tollis perficit la grazia non distrugge la natura dell'uomo questa autorità che ha la parola divina non violenta la natura umana ma anzi la perfezione perché finalizza la natura a quel filo che gli è proprio ma anzi la perfezione la ragione deve servire la fede nel modo stesso e questo è un pensiero importantissimo che l'inclinazione naturale della volontà asseconda la carità vorrei proprio riflettere su questo pensiero che secondo me mette in grande difficoltà il pessimismo luterano vi ricordate quando Lutero riflette sulle buone azioni ancora oggi c'è qualche prete che dice ma le buone azioni non sono importanti le buone azioni non ci portano alla salvezza alla salvezza ci porta la fede ma visto che la fede è un dono di Dio è evidente che chi non ha fede non si può salvare ma non è colpa sua perché non gli è stato dato questo dono ecco quindi viene fuori tutta la storia della predestinazione perché diceva Lutero non è importante l'opera buona ma perché dice intrinsecamente l'opera buona si attua si compie perché ci dà soddisfazione perché attraverso l'opera di aver dato l'eremosina ad un affamato ci sentiamo realizzati ma questa questa è proprio perché noi naturalmente siamo inclinati al bene non siamo inclinati al male è logico che vi ricordate il proverbio si trova più piacere nel donare che a ricevere quando arriva Natale a volte chi ha preparato dei regali trova più soddisfazione a regalare che a ricevere un regalo ma noi siamo inclinati al bene per cui come la grazia a seconda della natura umana l'inclinazione naturale asseconda la carità ma questo non vuol dire che la carità l'opera buona non abbia più valore ancora valore ed è logico che ci dà gioia ma quella gioia non toglie valore alla nostra opera buona anzi ci riempie il cuore di quella carità di cui dovremmo godere tutti perché Dio è amore dice Ratzinger però siamo sempre lì come ho già osservato tante volte per arrivare a dire che Dio è amore bisogna passare attraverso queste analisi attente altrimenti non si sa bene che cosa si intenda per Dio che cosa si intenda per amore e che significato abbia questa predicazione Dio è amore ognuno la può interpretare come crede onde che San Paolo dice facendo schiava ogni intelligenza all'obbedienza di Cristo 2 Corinti 15 è così che la sacra dottrina utilizza anche l'autorità dei filosofi dove essi con la ragione naturale valsero a conoscere la verità ecco ancora un altro elemento che per me è importante e l'abbiamo visto anche con Dante non c'è in Tommaso la contrapposizione dell'autorità dei filosofi e della ragione naturale con la rivelazione anzi la riflessione dei filosofi ci può aiutare a capire meglio ad essere più coerenti al punto che Tommaso cita Paolo laddove Paolo in Atti 17-28 afferma in riferimento citò il detto di citò il detto di Arato come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto noi siamo progeni di Dio si sta facendo riferimento a un poeta greco che appunto aveva già alcuni secoli prima di Cristo affermato noi siamo progeni di Dio non si fa scrupolo Paolo di fare riferimento ad un pagano invece ci sono delle confessioni religiose cristiane che vedono nel paganesimo solamente espressioni sataniche ci sono invece delle verità cui la ragione arriva perché non utilizzare queste riflessioni che arrivano pur sempre dal mondo dei pagani ma arrivano dalla ragione da una ragione onesta e la ragione anche questa è un dono di Dio però di queste autorità la sacra dottrina fa uso come di argomenti estrani e probabili è chiaro che il fondamento della sacra scrittura è la rivelazione non la filosofia ma la filosofia può esserci di aiuto perché la nostra fede è poggia sulla rivelazione fatta dagli apostoli perciò anche qui abbiamo un riferimento agostino e conclude quindi l'articolo 8 soltanto a quei libri delle sacre scritture che si denominano canonici io riconosco questo onore di credere fermamente che nessuno dei loro autori abbia errato in qualche cosa nello scriverli gli altri autori poi li leggo ma non in tal modo da reputare vero quel che dicono per quanto sia grande la loro santità e dottrina semplicemente perché essi hanno sentito e scritto quindi non dobbiamo defenestrare nulla né che ci arriva dal mondo pagano e tantomeno opere che ci arrivano dal mondo cristiano però attenzione l'infallibilità è solo nei testi che sono stati riconosciuti dalla tradizione e dall'autorità del magistero ispirati andiamo all'articolo 9 sembra che la sacra scrittura non debba usare metafore lo sapete che cos'è la metafora no? un esempio col suo braccio Dio che cosa ha fatto? ha guidato il suo popolo è chiaro che non è il braccio materiale il braccio è una metafora e vuol dire con la sua potenza con la sua volontà la metafora è questa quando si aggiunge il come bene abbiamo una similitudine perché sembra che la metafora non si debba usare procedere per via di similitudini o di figure metaforiche è proprio dell'arte poetica che è l'ultima delle discipline dunque l'uso delle metafore non conviene a questa scienza secondo argomento quelli che mi mettono in luce avranno la vita eterna ecclesiastico il siracide le similitudini occultano la verità sembra un po' che la similitudine o la metafora allontani ripeto che similitudine e metafora sono la stessa cosa soltanto che la similitudine riferisce dalla metafora perché si aggiunge il come dunque sembra che utilizzare delle immagini come nel caso che ho presentato prima il braccio di Yahweh invece di dire l'onnipotenza di Yahweh in qualche modo la metafora allontani dalla verità perciò questo secondo argomento è portato tratto e naturalmente interpretato in una particolare prospettiva tratto dall'ecclesiastico e il secondo argomento che ritiene in una particolare sempre prospettiva perché voi capite che l'ecclesiastico qui non sta dicendo non sta sostenendo che la metafora o la similitudine siano contrari a un approfondimento teologico della rivelazione ma potrebbe essere questa citazione questa frase dal siracide essere interpretata in questo modo terza argomentazione se proprio si vuole che alcune creature simboleggi nella divinità è necessario che si scelgono quelle più eccellse quindi ad esempio sempre rifacendosi anche perché questo esempio lo troveremo dopo al braccio paragonare la potenza divina ad un braccio insomma non è dignitoso si dovrebbero scegliere degli esempi particolarmente elevati ed eccelsi d'altra parte in Osea c'è scritto sono io che ho moltiplicato la visione e per mezzo dei profeti parlai in similitudine o proprio nella Bibbia vediamo che attraverso il profeta Osea si sostiene proprio il contrario quindi pare evidente che l'altro riferimento quello che se di far si racide non dovrebbe essere interpretato come potrebbero interpretarlo alcuni rispondo è conveniente che la sacra scrittura ci presenti le cose divine spirituali sotto figure di cose corporali e di fatti Dio provvede a tutti gli esseri in modo conforme alla loro natura ma noi siamo non siamo angeli siamo esseri fatti di corpo di ossa di sangue di carne vedete qui c'è un pensiero che viene certamente mutuato da Platone il quale ci ricorda che la dialettica aveva un significato ben preciso con Platone la dialettica è questo elevarsi lentamente al mondo delle idee all'iperuraneo noi con dialettica abbiamo un altro con Aristotele la dialettica su un altro significato e anche in Tommaso d'Aquino però stiamo procedendo sostanzialmente con parole differenti ma il senso è lo stesso Platone affermava che per arrivare all'iperuraneo bisogna innanzitutto contemplare la bellezza di un corpo si parte dal corpo poi le leggi di uno stato poi la matematica poi la geometria per poi fare il salto definitivo e arrivare alla perfezione delle idee così vale per gli esseri umani gli esseri umani specialmente le persone più semplici quelle a cui il Signore ha dato ad esempio solo un talento e non riescono oppure non hanno avuto una particolare istruzione quindi non riescono a concettualizzare ad astrarre in modo adeguato ebbene è opportuno passare attraverso delle similitudini attraverso delle metafore attraverso quelle processioni che molto spesso qualcuno ha condannato ma che sono vicine allo spirito della gente più semplice Dionigi il raggio divino non può risplendere su di noi se non attraverso la varietà dei santi veli e questi sono i veli e i veli sono le metafore e le similitudini e secondo Paolo Romani 1.14 io sono debitore ai sapienti e ai non sapienti pensate quindi la semplicità di chi magari non riesce ad astrare o a concettualizzare quello che non è sapiente chi non è sapiente ma che tuttavia nella sua semplicità può rafforzare la nostra fede è conveniente che essa ci presenti le cose spirituali sotto le parvenze corporali affinché almeno in tal modo le persone semplici la possano apprendere e quindi le difficoltà si risolvono il poeta usa metafore per il gusto di costruire ma noi nella Sacra Scrittura usiamo le metafore non per motivi esclusivamente estetici ma per necessità per utilità per far comprendere meglio a chi ha difficoltà ad argomentare con concetti e con astrazione il raggio della divina rivelazione non si distrugge come nota lo stesso Dionigi sotto il velame delle figure sensibili e così non permette che le menti alle quali è stata fatta la rivelazione si arrestino all'immagine ma le eleva alla conoscenza delle cose intellegibili quindi la similitudine non è un impedimento ma è un aiuto del resto la stessa oscurità propria delle figurazioni è utile attenzione per l'esercizio degli studiosi contro le irrisioni degli infedeli a proposito dei quali è detto nel Vangelo non vogliate dare le cose sante ai cani e qui abbiamo tutta la disciplina dell'arcano i cani oggi di cani ce ne sono tantissimi blasfemi che si permettono di utilizzare delle immagini evangeliche con tutti altri scopi vergognosi ecco allora che proprio all'inizio della predicazione si parla di una disciplina dell'arcano i pensieri che erano presenti nella rivelazione venivano camuffati proprio perché non finissero in mani ai cani ed i cani oggi che abbaiono ce ne sono veramente tanti quindi la metafora la similitudine hanno anche questa funzione Dionisio ancora dice bisogna riconoscere che è più conveniente che le cose spirituali ci vengono presentate nella sacra scrittura sotto figure di corpi vivi anziché di corpi nobili vi ricordate la terza argomentazione se proprio vogliamo usare la similitudine e la metafora dobbiamo usare delle immagini sublime attenzione però il pericolo che può derivare da questa impostazione io uso delle immagini sublime però c'è il pericolo che queste immagini sublime prendano il posto di Dio prendano il posto dell'oggetto della liberazione e ciò per tre ragioni in primo luogo perché così più facilmente l'animo umano è premunito dall'errore chiaramente solamente lo sciocco può pensare eppure io l'ho sentito da un fisico particolarmente probabilmente sono molto esperti in matematica e fisica ma di teologia non capiscono assolutamente nulla contrariamente all'impostazione di Tommaso d'Aquino che diceva beh Dio l'abbiamo rappresentato in mille modi nel medioeuro si rappresentava con la barba bianca come se fosse un vecchio eccetera cioè questo personaggio uno dei primi fisici mondiali che adesso è già mancato è morto ebbene apprende alla lettera la metafora il pittore l'artista ha rappresentato Yahweh e ha rappresentato lo andiamo a vedere anche nella cappella Sistina come un vecchio con la barba bianca carico di anni questa per ora è una immagine un'allegoria non può essere presa alla lettera eppure questo fisico che si presenta che si è presentato con conoscenze superiori almeno lo ritengono infallibile sto parlando a maschile ma è riferita a questa cosa ad una donna non ha capito che quella era una metafora cioè si è fermato alla similitudine però la persona un po' intelligente capisce che quando si parla di braccio di Dio non possiamo concepire un Dio che interviene con il braccio ritorno a insistere su ciò che ho detto prima il braccio qui intende la potenza ciò che invece potrebbe pensarsi overe cose di Dio si presentassero sotto figure di corpi superiori il secondo luogo perché in tal modo un tal modo di procedere è più conforme alla conoscenza che noi abbiamo di Dio in questa vita noi di Dio sappiamo piuttosto quello che non è che è quello che è qui tutta la teologia negativa a cui fa riferimento Tommaso parlando dell'uomo parlando di un servo parlando di un padrone ricordatevi le parabole poi nel nel prossimo articolo vedremo anche il discorso sull'allegoria ebbene noi considerando le qualità di un servo considerando le qualità di un padrone possiamo dire Dio non è certamente un servo certamente Dio non è un padrone perché Dio è tutt'altro quindi riflettendo attentamente su queste metafore su queste similitudini noi confermiamo il quel totalmente altro che Dio è rispetto a delle immagini che sono legate alla nostra esperienza quotidiana in terzo luogo perché in tal modo le cose divine sono meglio occultate agli indegni e ritorna di nuovo il discorso della disciplina dell'arcano non diamo le perle ai porci ultimo articolo e il decimo ridetur che un medesimo testo della scrittura non racchiuda più sensi cioè lo storico letterale l'allegorico il tropologico morale e l'anagogico guardate qui ci sono delle parole che possono alla fine creare dei grossi problemi e uno potrebbe non capirci niente io ho cercato una cosa che spiegavo i miei ragazzi in terza liceo perché erano i sensi attraverso cui veniva interpretata la parola della rivelazione abbiamo un senso che si definisce storico oppure letterale oppure parabolico in riferimento alle parabole questo senso storico letterale parabolico o è storia o è ziologia l'eziologia è la ricerca delle cause o analogia che riflette su fatti storici analoghi mentre il senso spirituale si può presentare nell'allegoria l'allegoria figurale di cui ho detto tante volte o nel senso morale antropologico e morale lo stesso o nell'anagogia che è quello escatologico cioè il senso che viene visto attraverso la divina rivelazione del nostro destino nella conoscenza divina vediamo un po' devi tornare allora su questi vocaboli spesso si è generata confusione e Tommaso mette in evidenza questa possibile confusione che ci può essere tra un aggettivo e un altro allora un medesimo testo della sacra scrittura non può racchiudere più sensi no? è evidente che questa tesi non è quella di Tommaso cioè non può racchiudere uno senso letterale un senso allegorico un senso morale un senso anagogico qui è un po' tutto pasticciato messo assieme perché l'allegorico il morale anagogico sarebbe il senso spirituale per quale ragione? vediamo le argomentazioni qui ce ne sono tre la molteplicità dei sensi in un medesimo testo genera confusione e inganno a sostegno di chi dice che non ci possono essere più sensi articolo 2 Agostino la scrittura che si chiama Antico Testamento si presenta sotto quattro aspetti cioè secondo la storia l'eziologia l'analogia e l'allegoria ora questa divisione sembra del tutto diversa da quella precedente infatti vedete qui si è parlato di storico allegorico morale eragogico Agostino Agostino invece ci parla di storia eziologia analogia allegoria e lo stesso Tommaso dice com'è questa storia c'è chi sostiene particolare una particolare prospettiva Agostino ne sostiene un'altra quindi a quanto pare quando si parla di sensi nascosti dalla scrittura non tutti siamo d'accordo c'è un gran pasticcio ma poi se ne aggiunge un altro testa argomentazione se aggiunga che oltre i quattro sensi assegnati c'è quello parabolico quello delle parabole che sembra non essere computato in quei quattro allora questa grande confusione sembra in qualche modo giustificare il sospetto che ci possa nella sacra scrittura esserci nascosti più sensi sed contra Gregorio dice la sacra scrittura per il modo stesso di esprimersi sorpassa tutte le altre scienze poiché in uno stesso identico discorso mentre racconta un fatto enuncia un mistero ne enuncia un altro quindi Gregorio sembra non essere d'accordo con le prime tre argomentazioni vediamo come risponde Tommaso l'accezione ovvia dei termini secondo cui le parole indicano la realtà corrisponde al primo senso vediamo di mettere ordine sarà poi quell'ordine che ho sintetizzato io sotto allora le parole intese per quello che sono è il senso storico letterale usare invece le cose stesse espresse dalle parole per significare altre cose questo è il senso spirituale abbiamo visto sotto senso storico letterale poi vedremo che anche parabolico lo assimilirà allo storico letterale l'altro invece è il senso spirituale mettiamo ordine non è che ci sia disordine in questa riflessione dei padri o precedente che sia semplicemente vengono usati vocaboli differenti per indicare lo stesso pensiero lo stesso concetto e Tommaso qui sta cercando di portare un po' d'ordine il senso spirituale poi ha una triplice suddivisione dice infatti Paolo ebrei 719 che la legge antica è figura della nuova vedete che già 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 con Paolo noi abbiamo esplicitamente accolto l'allegoria io poi mi sono permesso di riportare anche se questa cosa l'ho riportata io e non Tommaso in Galati 21-27 proprio apertamente esplicitamente Paolo scrive ora tali cose sono dette per allegoria perciò l'apostolo sempre Paolo cosa dice che la legge antica è figura della nuova questa sarebbe l'allegoria figurale ne abbiamo già parlato altrove che cos'è l'allegoria figurale Mosè ad esempio fatto storico che è avvenuto nell'Antico Testamento libera il popolo ebreo dalla scaviotude d'Egitto ma che cos'è Mosè è l'allegoria figurale del Cristo che libera gli uomini dal peccato questa è un'allegoria definita allegoria figurale perché la semplice allegoria non è figurale la lupa di Dante non è è un'allegoria vuole rappresentare l'avarizia la vività ma non è un'allegoria figurale è semplicemente un'allegoria letterale e la legge nuova come dice Dionigi un'altra citazione ricordatevi sempre che quelle in azzurro sono citazioni della Bibbia quelle in grigio invece sono le citazioni dei padri o di altri la legge nuova è figura della gloria futura quindi un'altra allegoria nella prospettiva anagogica quindi quando noi parliamo della legge nuova questa in qualche modo è prefigurazione della gloria futura così pure nella legge nuova le cose compiutesi del capo stanno a significare quello che dobbiamo fare noi e questa è la regoria morale Cristo ci insegna una strada ecco perché è necessario a un certo punto conoscere basta dire Dio amore bisogna anche conoscere la vita di Cristo e Cristo ci dice qual è il comportamento che dobbiamo seguire nella nostra nel nostro quotidiano e quindi anche qui abbiamo nascosta un'altra un altro insegnamento che è quello che noi definiamo qui morale o troppo logico ma siccome il senso letterale è quello che intende l'autore e d'altra parte l'autore della santa scrittura è Dio il quale comprende simultaneamente col suo intelletto tutte le cose non c'è difficoltà da ammettere con San Agostino che anche secondo il senso letterale in un medesimo testo scritturale vi siano più sensi in Dio tutto ha quella unità profonda che purtroppo non troviamo Plutino poi ce lo insegnerà ma attraverso delle formule che vanno un po' al di là dell'insegnamento ufficiale della Chiesa si arriva proprio un panteismo però questa unità in Dio per cui il letterale è allo stesso tempo morale è allo stesso tempo allegorico è allo stesso tempo anagogico è allo stesso tempo insomma questa unità Cusano parlerebbe di implicazio ed esplicazio Dante ci parla di squaternare questa unità che è in Dio si squaterna nel mondo e si presenta in tutti questi sensi e questa è la ricchezza che noi troviamo nella divina divina relazione perciò ci sono delle risposte primo argomento la molteplicità di tali sensi non porta all'equivoco basta semplicemente chiarire no? non c'è da temere delle confusioni della sacra scrittura perché dice Agostino tutti gli altri sensi si fondono su un solo senso quello letterale dal quale è solo il lecito argomentare e non già dal senso allegorico cosa vuol dire che io posso argomentare e trovare gli altri sensi solo da quello storico letterale non posso poi arrivato ad un senso allegorico anagogico o morale argomentare su quello e sul letterale che noi dobbiamo riflettere ne per questo viene a mancare qualche cosa alla sacra scrittura perché niente di necessario alla fede contenuto nel senso spirituale che la sacra scrittura non esprima chiaramente in senso letterale in qualche altro testo quindi noi anche se riusciamo da un senso letterale arrivare ad uno spirituale certamente la scrittura quel senso spirituale lo ha squaternato lo ha detto e lo ha espresso chiaramente in un altro passo risposta seconda seconda obiezione quei tre modi di esporre la scrittura storia eziologia analogia appartengono all'unico senso letterale e questa è la riflessione di Agostino cioè non dobbiamo pensare che ci sia un senso eziologico uno analogico eccetera tutti e tre questi sensi storico eziologico analogico appartengono al senso storico letterale ma questo non soltanto per quanto riguarda la Bibbia ma per quanto riguarda qualsiasi scritto quello che si è scritto alla lettera rappresenta la storia l'avvenimento l'eziologia poi nella storia cerca le cause e l'analogia valuta le azioni i fatti che possono essere simili analoghi che possono essere sovrapposti e qui sostanzialmente Agostino dice quello che ho già detto io Ugo di San Vittore pone sotto il nome di Algoria anche il senso anagogico vedete sta cercando Tommaso di unificare tutte queste varie interpretazioni per dimostrare che non sono espressioni differenti direbbe direbbe una prospettiva non è una prospettiva equivoca è una prospettiva univoca cambia soltanto il senso il vocabolo ma tutti stanno intendendo la stessa cosa infine la risposta al terzo argomento cioè al senso parabolico a tutti questi sensi si aggiunge anche il senso della parabola ma il senso della parabola è sempre e comunque un senso storico e letterale il senso parabolico è incluso nel letterale infatti con la parola attenzione che questo è un pensiero un po' difficile infatti con la parola si esprime qualche cosa in senso proprio io esprimo attraverso la parola albero un concetto e intendo l'albero e qualche cosa in senso figurato ma il senso letterale non è già la figura ma il figurato dunque nel momento stesso in cui in una parabola troviamo il figlio il prodigo e troviamo il padre misericordioso io intendo con quelle immagini effettivamente il padre misericordioso e il figlio prodigo poi in un secondo momento attraverso un'interpretazione allegorica vedrò in quel padre Dio e in quel figlio l'umanità di cui appare chiaro che nel senso letterale della scrittura mai può esservi errore ed ecco qui la sintesi di Tommaso con la quale io concludo la prima questione composta da dieci articoli questo è il decimo un'umanità e l'umanità